Lavori di manutenzione urgente, quelli che, comunica in una nota il comune di Campobasso, Enel distribuzione effettuerà domani nella CP San Polo Matese, che richiederanno l'interruzione della fornitura di energia elettrica alla centrale di sollevamento di Santa Maria delle Macchie dalle 8 alle 15 e di conseguenza, continuando da Palazzo San Giorgio, anche il flusso idrico subirà delle interruzioni. In concomitanza con gli interventi dell'Enel si eseguiranno lavori di manutenzione su alcune condotte gestite dall'amministrazione comunale. L'interruzione dell'acqua riguarderà la fascia oraria che va dalle 8 di domani, domenica 7 maggio, alle prime ore della mattina di lunedì 8 maggio e interesserà le seguenti strade di Campobasso. Dunque domani mancherà l'acqua in Contrada Colle delle Api, Contrada Colle dell'Orso, Contrada San Giovanni in Golfo, Corso Mazzini, Piazza Caduti del Tiro a Segno Nazionale, San Giovannello, via Gramsci, via De Gasperi, via Croce, via La Banca, via Boccardi, via Capriglione, via Cirese, via Colle delle Api, via Delisio, via Delle Frasche, via Gammieri, via Ciccaglione, via Crispi, via Iovine, via Longano, via Altobello, via Amendola, via Barbato, via Fortunato, via Matteotti, via Gammieri, via 4 Novembre, via Einaudi, via Sturzo, via Maranelli, via Martiri Molisani della Resistenza. Ancora mancherà l'acqua domani in via Monte San Michele, via Monfalcone, via Monte Grappa, via Monte Nevoso, via Monte Sabotino, via Monte San Gabriele, via Monte Santo, via Montello, via Mosca, via Scarano, via Rotondo, via Pasubio, via Piave, via Presutti, mancherà l'acqua domani in via San Lorenzo, via Sant'Antonio dei Lazzari, via Sicilia, via Trotta, via Bellini e via 24 Maggio.